Buongiorno a tutti, io sono Denise e benvenuti sul canale della nostra scuola. Oggi intervisterò i miei compagni sulla loro prima impressione della scuola media. Tu Gregorio, cosa ne pensi? La prima volta è stata un'emozionante, poi ho fatto conoscenza con i miei compagni, è stato molto divertente. Ok. Per te Claudia, hai cambiato qualcosa rispetto alle scuole elementari? Per me, in effetti, la scuola media mi piace di più delle scuole elementari perché comunque ci sono più attività divertenti, abbiamo fatto anche nuove conoscenze, per questo è più bello. Ok. Tu Alessandro, hai legato di più con i ragazzi o con le ragazze? Io ho legato con i ragazzi e con le ragazze nello stesso modo. Ok, ma era anche così alle scuole elementari? No, alle elementari avevo legato più con i ragazzi. Ok, grazie. Com'è stato il tuo primo giorno, Sofia? Il mio primo giorno è stata un po' spaesata perché comunque le mie migliori amiche sono andate in un'altra classe, quindi sono rimasta un po' da sola. Però comunque ho legato molto con le ragazze di questa classe e adesso mi trovo bene. Ok, grazie. Invece tu Alessandro, visto che provieni da un'altra scuola, vero? Sì. Come ti sei trovato? Guardi, ho legato subito con alcuni miei compagni e dopo ho legato pure con gli altri. Anche degli altri classi? Solo con qualcuno. Ok, perfetto. Qual è la tua materia preferita Alessio? La schienazione. No dai, seriamente, qual è? La attività motoria. E come mai? Perché mi piaceva molto muovermi e scatenarmi in palestra e così mi sfogo. Ok, grazie. Per finire Alessandro, qual è stata la tua impressione della scuola media? Per me è stata un'impressione strana perché non avendo nessun mio compagno vecchio e conoscendo solamente persone nuove praticamente, niente. Ok. La nostra registrazione finisce qui, grazie per l'ascolto e vi aspettiamo per i nostri prossimi podcast. Podcast.